Tant'è che abbiamo in grafica le parole dette quest'oggi dal ministro dello sport Abodi proprio in riferimento alla dinamica Acerbi One Jesus e il ministro si è pronunciato questa volta sulla coscienza di Acerbi Leggiamo insieme le parole di Abodi Allora, per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare Sul tema del razzismo non voglio aggiungere nulla perché conterranno solo i fatti La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato Per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare non è un caso che in questo io abbia detto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state sufficienti per un giudizio Il Napoli comprende l'amarezza ma bisogna fare uno sforzo nonostante questo per rimanere tutti insieme per contrastare un fenomeno come quello del razzismo E poi attenzione perché forse è proprio questa l'ultima frase che ha fatto più scalpore oggi Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza Posso dire una cosa? Sì, anche perché Paolo, l'inizio Non mi piace nulla Sono dichiarazioni secondo me ipocrite perché da un lato dice che questa vicenda può contribuire a rendere ancora più disarticolato e meno credibile il mondo del calcio E quindi lui fa un'invasione di campo perché è il ministro dello sport Punto primo Poi lui è il primo Se evidentemente si preoccupa che il mondo del calcio può sapere di credibilità A dare una martellata alla credibilità in questo caso di un organo del calcio che è il giudice sportivo Perché dice mi auguro no, adesso più o meno ha detto Possiamo richiedere la grafica, eccola, eccola, grazie regia Che chi ha giudicato avesse comunque tutte le informazioni messe a disposizione Le prove sufficienti Cioè quindi già lui mette in dubbio la correttezza o il lavoro del giudice sportivo E quindi poi non può lamentarsi se queste cose minano la credibilità Poi secondo me è ipocrita perché indirettamente dice non dice Cavalca ovviamente un tema molto sentito e molto mainstream del razzismo E poi praticamente fa capire di non credere molto ad acerbi Perché dice mi auguro che abbia la coscienza del sport Quindi il ministro dello sport Che abbia la coscienza pulita Che sia in pace con la coscienza Sì, che sia in pace con la coscienza Quindi il ministro dello sport praticamente si schiera Secondo me, visto che è il ministro dello sport E sembra tenerci così al mondo del calcio Forse sarebbe il caso davvero che invece di fare della propaganda Si occupasse nel governo finalmente di avvicinare il governo al mondo del calcio Perché in Italia, nel nostro paese, il calcio ha zero aiuti dal governo Zero, non li ha avuti nemmeno ai tempi della pandemia Ma ha avuto solo un contributo No, che Paolo dice No, voglio dire Tu vuoi aiutare il mondo del calcio Fai il ministro dello sport Fai delle cose utili del mondo del calcio Ma gli abbiamo chiesto solo un parere sulla faccenda a Cerbino Gli stiamo chiedendo Sì, però si è schierato Lui dice che sta roba mina la credibilità del calcio Ma la credibilità del calcio C'è anche se tu il governo lo aiuti a migliorare, a creare strutture, a fare investimenti eccetera eccetera Cioè secondo me è stato ipocrita A me non è piaciuta niente questa roba di Abodi Ti dico la verità Effettivamente Perché si schiera Perché si schiera Nelle dichiarazioni odierne del ministro dello sport Appunto Abodi E' proprio forse stata, Gigi, la frase conclusiva Perché è vero, no? Ha detto io mi auguro che il giudice sportivo abbia avuto tutte le prove eccetera Ma se poi non avessi concluso con spero che Cerbi sia in pace con la propria coscienza Forse oggi non staremmo disquisendo proprio su questo E' vero, però io credo che abbia voluto dare una mano al buon Juan Jesus Perché da questa vicenda chi ne esce sconfitto? Juan Jesus E allora probabilmente ha detto A Cerbi ha avuto la soluzione totale Diamo una mano anche a Juan Jesus Che probabilmente non pensava di creare un caso del genere Perché io da allenatore posso dirti che sono rimasto perplesso Perché queste cose sono cose da campo Non dovrebbero mai E infatti inizialmente dopo la partita Ai microfoni di Dazon Juan Jesus dice Quello che succede in campo rimane in campo Sì, però quando poi a Cerbi ha fatto le sue dichiarazioni Cioè se io fossi stato Juan Jesus avrei chiamato a Cerbi a dire Scusa cosa dovrei dirti io adesso Che tu sei venuto a dirmi scusa Ma poi non conosciamo a fondo tutto quello che è avvenuto Perché se nessuno ha sentito niente Io credo che Juan Jesus dica la verità Ma non credo che Ma potrebbe aver capito male Che a Cerbi abbia fatto del razzismo Potrebbe aver capito male Sicuramente non è razzista No io ho una cosa al volo Se mi fate parlare due minuti Allora, secondo me da questa vicenda Nesce sconfitta la giustizia sportiva E te lo spiego in due secondi Allora Praticamente questa sentenza si basa Sul fatto che non ci sono prove Ok? Io però, guarda caso Se vado indietro con gli anni Io credo, non lo so Gigi Se ha mai avuto a che fare con la giustizia sportiva Io sì, purtroppo E la giustizia sportiva Secondo me è un organo da riformare Come sono da riformare tante regole Perché per esempio Ti faccio un banale esempio Se a me intercettano Da tesserato Che io faccio delle scommesse E vendo le partite Di cui sono il protagonista Mi chiamano E mi danno tre anni di squalifica Poi mi dicono Chi sapeva All'interno della tua squadra Io dico Sapeva Gigi Maifredi Il mio allenatore lo sapeva Ok? È la mia parola Senza prove È la mia parola Contro quella di Gigi Maifredi Che viene chiamato dalla giustizia sportiva E gli viene chiesto E tu sapevi Quindi hai omesso Una denuncia Gigi Maifredi risponde Io non sapevo niente A noi non ci interessa Ci devi provare Che tu non sapevi niente Siccome lui ci ha detto che sapevi Ti becchi tre anni anche tu Io conosco allenatori Che si sono beccati La squalifica Solo per voce Di un tesserato Di un'altra società Che ha detto che loro erano a conoscenza E che quindi È stata fatta Una messa denuncia Allora Se qui La parola vale Di là la parola non vale Allora Allora qui C'è un'incongruenza Incredibile Da parte della giustizia sportiva Che prende in esame Due casi Sicuramente diversi Ma dove Da una parte C'è la parola di un tesserato Che non vale niente Dall'altra C'è la parola di un tesserato Per altro venduto Perché è un venduto E guarda Io non ho Problemi a dirlo Perché io non l'ho mai fatto Chi si vendeva le partite O chi si vende le partite Mi fa schifo Ok Eppure Viene creduto Quindi viene creduto La persona Che vende le partite E che Viene beccata Con le mani nel sacco Viene creduta Quell'altro Che invece dice Ma io Ho ricevuto Questo tipo di Diciamo Di offesa Non viene creduto Questa è Un'incongruenza Gigantesca Della giustizia sportiva Gigantesca E c'è qualcuno Che ci ha rimesso la carriera Che ha beccato Due o tre anni E non si è più visto Massimo Posso dire Ovviamente Sono d'accordo con te Che la giustizia sportiva È la cosa Più da riformare In questo sistema Sono d'accordissimo Con te Però ti ricordi Che avevamo avuto Un confronto di idee L'altra volta E ti ho detto Guarda che Non c'è uno straccio Di prova Di indizio E io credo La buona fede Di Acerbi E vedrai Cioè L'abbiamo già condannato Prima della sentenza E tu credi Io no Io credo invece La buona fede Di Giovanni Jesus Che non ha nessun tipo Ma questo Questo d'accordo Credi una cosa E ne credo un'altra Però ti dico Ti dico che però A leggere questa sentenza Cioè il giudice dice Che non c'è Un minimo Perché per esempio Gli esempi precedenti Che sono stati fatti Anche il giocatore del Pisa Che aveva offeso Avete Marconi Marconi Eh sì No no ma io non parlo Di offese No no aspetta Io parlo di un'altra cosa Sì no no Io sto facendo Io sto facendo Il confronto Con la parola Di un tesserato Che dice Guarda che Bargigia Sapeva Che io scommettevo Perché lo sapeva Sì Ti chiamano E ti dicono Bargigia Tu sapevi E tu dici No io non sapevo Eh sì invece Tu sapevi Perché ce l'ha detto Brambati E tu sei squalificato No lo so Perché hai omesso Una denuncia Eh ragazzi Ma questo è Il peso È due pesi Due misure Per cui Massimo Per cui Massimo Però Però Gigi scusami È uno sbaglio Allora che hanno fatto No però Massimo Sul tema delle scommesse Eh c'è sempre stata di mezzo Un'inchiesta penale In parallelo No Quindi secondo me Non è esattamente La stessa cosa Devo ancora sentire Sia Marcello Che Mariana Dici scusami Disto che dici La cosa Io sai Se fossi in acerbi Cosa farei Io denuncerei Juan Jesus Perché mi ha fatto Perdere la nazionale L'ho detto anch'io Mi ha fatto perdere la nazionale E mi ha fatto perdere l'immagine L'ho detto L'ho detto anch'io Perché per una settimana Eh allora Denuncialo A parte che per farlo Per farlo dovrebbe Esercitare la clausola compromissoria No perché non è scontato Eh vabbè Eserciti Eserciti Ti ha infamato l'immagine Esatto Ti ha infamato l'immagine Perché io adesso acerbi Lo vedo O come un razzista O come un pirla Un bugardo Invece Esatto Sì tanti pensano Che sia un bugardo Lo vedo come Eh eh Lo vedo con Con questa immagine Ma Massimo Lì è l'Inter Che è l'Inter Che gli abbiano dato Dieci, due, sette o zero Io ti dico Quello che per me Oggi è acerbi Per me Però Massimo Lì è l'Inter È l'Inter Che non lo fa parlare È l'Inter Che non lo fa parlare No lui ha parlato No Voglio anche sentire Marcello e Mariana Perché così almeno Sentiamo tutti i pareri Poi ritorniamo Alla nostra giro di tavolo Perdonatemi Ma per un senso di completezza Mariana e Marcello Voi parlate interboss Voglio sapere Sono curiosa No ma io guarda Te la faccio molto Molto in sintesi La cosa Cioè Secondo me acerbi Un po' la fossa Se ne è anche scavata da sola Perché comunque Lui ha dato due versioni diverse Quando lui è finita la partita Ha chiesto scusa Quindi questo voleva dire Che tu hai detto effettivamente qualcosa Tant'è che ha pure indicato Tu Ram Dicendo Ma vero che lo dico anche a te Tante volte Che scherziamo su questa cosa Ok Guarda caso Passa un giorno E tu cambi versione Però non c'è mai stata poi Una replica da parte di Juan Gesù Su questo Beh sì Però Mariana Mariana non ha chiesto scusa Su Instagram Quindi sul suo profilo Non ha chiesto scusa pubblicamente Perché le sue dichiarazioni Sono state il giorno dopo Quando torna dalla Nazionale In treno No Il giorno della parola In campo In campo In campo In campo ha chiesto scusa Quindi vuol dire che tu avevi detto qualcosa No ma tu l'hai visto il labiale L'hai visto il labiale Ma per cosa ha chiesto scusa Per cosa ha chiesto scusa Per la frase che ha detto E' la frase che ipoteticamente Guarda il labiale Ma tu hai visto il labiale di Acerbi Ma come no Il labiale di Acerbi Lui dice chiaramente Hai ragione Scusami ma non sono razzista Hai ragione Scusami ma non sono razzista E gli dica Turam Guarda che lo faccio te sbracciando Facendo è vero Cioè la cosa che dovrebbe far pensare Sì perché lui dice Ti ho fatto nero Lui dice La cosa che dovrebbe far pensare No sostiene Io gli ho detto Ah ti faccio nero Dimmi tu che sei frequentato In campo E lo dico sempre anche a Turam No no Ma ascolta Gigi No ma Tu che hai frequentato I campi di calcio Perché gli scusa qualcosa Hai detto Quante volte hai sentito dire Da un giocatore bianco A uno di colore Ti faccio nero Dimmi le quante volte Hai sentito dire Mai Mai Ma sì ragazzi Però è certo che qualcosa Ci sono detti Ma ovvio Però non essendoci la prova La prova reale È chiaro che uno tira l'acqua al suo mulino La mia parola contro la tua Ripartiamo da qua ragazzi E possiamo ancora parlare Un intero blocco Anche perché vi voglio anche leggere Le parole Dalla parte di Juan Jesus E dall'altra parte di Acerbi E poi anche Volevo fare un attimo Il focus Su come risponde Juan Jesus Perché ha cambiato anche Sarà una piccolezza Ma la propria maggio del profilo Ha messo il pugno alzato In senso di Sì una roba È una roba ideologica Che non c'entra niente Con quello che gli è successo Una roba degli anni E beh Però comunque Lui ha voluto dire In un qualche modo Paolo Che forse forse Allora le cose come sono andate Non gli stanno bene Allora ragazzi Per dovere di cronaca Visto che si stava parlando Della questione Acerbi Juan Jesus Vi abbiamo letto Le dichiarazioni di oggi Di Abbo Di ministro dello sport Ma abbiamo anche Da condividere con voi Quanto hanno detto Si può dire una cosa Su Abbo Sì certo Cioè nel senso che Abbo Di secondo me Lui usa una forma Un po' super cazzolosa Ok Per dire sta cosa Però di fatto Lui manifesta Gli stessi dubbi Che abbiamo Che abbiamo manifestato Una parte di noi Perché poi ci sono quelli Che chiaramente Come Paolo Dà ragione Acerbi Quindi una parte di noi Ha manifestato dei dubbi Sia sui criteri Che sono stati usati Dal giudice E sia sulla E reale buona fede Di Acerbi Sì Quindi Lui praticamente È vero Avrebbe fatto meglio A dirlo In maniera In maniera Chiara Più 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 Se lui l'avesse detto Avesse detto Sì io l'ho insultato Anche se non sono razzista Ho usato un insulto razzista Probabilmente Io dico Abbo Ah scusami No no Aspetta Però Marcello Abbo Ha un ruolo istituzionale Cioè lui con quelle dichiarazioni Tira in ballo proprio Il giudice Mastrandrea Dice mi auguro Che avesse tutti gli elementi Come se fosse un poveretto Che praticamente Ha nascosto Ha imboscato Degli elementi Ma perché scuola Se viene il dubbio a me Che sono un povero pirla E viene invece il dubbio Lo stesso dubbio Che viene in mente a me Viene anche in mente Al ministro dello sport Beh ma se il ministro dello sport Vuol dire che allora Non sono completamente fuori io No però Però se il ministro dello sport È il primo a picconare Un'istituzione dello sport Però Ma se l'istituzione dello sport Sbaglia Oh ma se lo stuola Oh qui in questo caso Cioè tu gli ci fanno gli sport Che si lavano in casa No No dico che Secondo me il ministro dello sport Dovrebbe avere Eh più fiducia Nel funzionamento Delle istituzioni sportive In questo caso Della Federcalcio Col quale comunque Il ministro dello sport Interloquisce Credo quotidianamente Per esempio La Federcalcio Anche ci sono le dichiarazioni Di Gravina La Federcalcio Si è schierata Ha aspettato la sentenza E poi si è schierata Nettamente con la Cervi Gravina dice La abbraccerò Credo Ha le sue parole Poi qui Ne abbiamo parlato anche ieri sera C'è questa considerazione Che aveva fatto Luciano Moggi Che secondo me Non va trascurata Cioè Che lui dà una chiave di lettura Anche di un interesse Fra virgolette Nazionale Cioè dice Attenzione Perché c'è l'europeo Acerbi È un giocatore Della nazionale E potrebbe essere Appunto una chiave di lettura Per Non lo so No dico Cioè vale tutto Però se lo diciamo noi Sì ma il rischio Era Ma un ministro Dello sport No ma il rischio Era che gli dessero Dieci giornate E lui saltasse A europeo Io siccome Ti ho detto Centomila volte Anche in queste trasmissioni Che non credo Al razzismo di Acerbi Per me Acerbi non è un razzismo Ma è chiaro Conto è Allora Squalificare Un giocatore Per dieci giornate Per razzismo vero Un conto è Squalificarlo Per Due giornate Cioè tu C'è l'articolo 39 Tu ti rimballo L'articolo 39 Dici va bene In quale studio Proprio sabato Questo Tu Marcello Volevi il comportamento Antiesportivo Praticamente Sì perché secondo me Qualcosa lui ha detto Lui gliel'ha detto E io credo più A Juan Gisus Che a lui Su questo Su questo Allora secondo me C'è la via di mezzo Si usava la via di mezzo Invece qui Si è usata Proprio la via Quella definitiva Di toglierlo Completamente Stratto Per mancanza di prove Ragazzi vi voglio leggere Però anche Le dichiarazioni Che però Già nel passato Prima citavamo Il caso di Marconi Conomi No in quel caso lì C'erano testimonianze Però Marcello No 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 C'erano C'erano dei minimi indizi No ma lo dice il giudice Qui non aveva un minimo Perché neanche un compagno Di Acerbi Possibile che nessuno Del Napoli Ma anche Santini e Mavuli C'erano degli indizi Sì sì perché c'era Un compagno di hobby Era la partita Pisa Pisa Che aveva sentito No 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 Quella è Chievo Pisa Quella è Esatto È il giocatore del Pisa E lì aveva sentito Un compagno di hobby Ecco quella prima Non me la ricordo No no però Voglio dire ci sta Io dico ecco Sulla comportamento Antisportivo Una cosa così Secondo me Ci può stare Anche perché a mio avviso Veramente il razzismo È una cosa molto seria Molto brutta Urta la sensibilità Di parte Poi soprattutto Con tutte le lotte Che si stanno facendo Di parte di un popolo È il giorno antirazzismo Oltretutto Una giornata antirazzismo Sì Poi Ecco Io credo che queste cose Ripeto Non mi stancherò mai Di ripeterlo Non funzionano Perché puzzano troppo Di falso E di ipocrisia Cioè le pecce sulle maglie I capitani Che i mondiali Leggono le dichiarazioni Contra razzismo Poi Però la gente Non è proprio tutta stupida Ragiona con la propria testa Tu mi fai queste cose Quasi come per pulirti La coscienza Perché poi Tu istituzione Vai a organizzare Per soldi I campionati del mondo In Qatar Le supercoppe In Arabia Saudita Che sono No però Vittoria Sono per antonomasia No ho capito cosa vuoi dire Però Vittoria È real politica I paesi che discriminano Sono per antonomasia I paesi Che discriminano Le donne I diritti civili I gay Cioè quindi Hai capito Ecco io ho tutte ste robe Come i segni sulla faccia Non servono Vanno fatte cose più profonde Nelle scuole Nelle famiglie Non ste Ste bagianate qua Sì però ho maggior ragione Scusami Come dicevamo prima di Tonali Che Tonali Sale regole Sale regole Anche i giocatori lo sanno Quel giorno Era giornata antirazzismo Ma proprio quel giorno Ti deve scivolare quella frase Anche se non l'hai fatta apposta Ammesso che gli sia scivolata Però io credo che nella transagonistica Ti tieni E tocca Ma sta transagonistica Però C'entra dentro Nella transagonistica Ci può succedere di tutto Beh ma Marcello Perché loro sono in trans Noi non abbiamo provato Però anch'io quando mi arrabbio con qualcuno Cioè sono in trans No vabbè Ma lì la tensione Mi stanno girando Ma no Ma io chiedo il conforto Se me lo dà A Maifredi Cioè Che la tensione agonistica L'ha vissuta Sulla linea di un capo Cioè Lì è più alta Di una normale Poi sentiamo anche Max Scusa Se gli devi Diva dello stronzo Juan Giso Non diceva niente Perché magari Se gli era detto Ma tu gli vai a dire Proprio quella frase lì Che sappiamo Che non si può dire Allora facciamo rispondere a Gigi Vado da Max E poi vi leggo Le dichiarazioni Di entrambi i giocatori Quando c'è una partita Dipende dai giocatori Non si è mai razionari Per cui dici quello Che pensi al momento È chiaro che uno Se dovesse ragionarci Non dice niente In campo Perché Come dicevano Sanno tutti i regolamenti Adesso sei monitorato In qualsiasi parte Del campo Per cui Però io credo che Proprio perché era La giornata del razzismo Serviva qualcosa Per sensibilizzare la cosa E con quella di Mignone E con questa Vedrai che d'ora in avanti Staranno non attenti Molto attenti Doppio attenti Staranno doppio attenti Effettivamente Max Anche la luce Di questi tra virgolette Polveroni Che si stanno alzando Sulla questione No no Ma sono d'accordo Con il mister Nel senso che All'epoca Non c'erano Tutte queste telecamere Non c'era tutta questa C'era l'attenzione mediatica Ma le televisioni Era una o due C'era Quando giocavamo noi C'era il novantesimo minuto La domenica sprint La domenica sportiva Se tu andavi No la cosa bella Era che se andavi In intervista Su uno di questi tre programmi Eri famoso in tutta Italia Perché in tutta Italia Oggi Se mi dicono che faccia Ha il terzino destro Del Torino Non lo so Magari so il nome Ma non so la faccia E quindi oggi Non puoi dire Ne fare niente Però i giocatori Lo sanno Alla mia epoca Io onestamente Però Nonostante le telecamere E ho avuto Compagni e avversari Di colore Ma io Onestamente Non ho mai sentito Dire Da qualche avversario Verso un mio compagno O da qualche mio compagno Verso un avversario Un qualcosa di questo genere Né tantomeno Ti faccio nero Eh Ti faccio nero Quella proprio Ti faccio nero Quella proprio No voglio dire Però ai tempi Sembra Topolino Con Paperino Allora Quando leggevi Topolino No, dico che quella roba lì ai tempi di Massimo era un tema non sentito, non d'attualità il discorso del razzismo, hai capito? Non Davide il razzista però i giocatori delle squadre del sud o i giocatori meridionali di Davide il terrone, dell'africano. Secondo me la sensibilità è la sensibilità di un nero uguale a quella di un bianco, cioè tu devi tutelare le due cose e a me sembra che in questo periodo che stiamo vivendo ci sia veramente una sovraesposizione su questo tema che poi alimenta la testa baccata degli stupidi, come quelli a Udine che facevano i bui a Meignan e un era di colore, hai capito il cortocircuito mediatico di sta roba? Però c'è un conto, allora i tifosi sono tifosi, sappiamo che uno di colore che fa buo a uno di colore non sarà razzista, sarà idiota, sarà idiota. Ma non è che tutti i neri sono buoni e tutti i bianchi sono cattivi o viceversa, ci sono gli stronzi tra i bianchi e gli stronzi tra i neri, il problema è che un conto è il tifoso, un conto è il giocatore in campo che sa le regole. Voglio solo fare una domanda a Paolo, poniamo il caso, tu hai detto che quello lì che è nero, che dice del nero al tifoso… È un idiota, non è un razzista, è un idiota. Perfetto, hai dato un aggettivo qualificativo, mi dai un aggettivo qualificativo visto che non è un razzista, me lo auguro e credo che le parole di Abodi alla fine lo abbiano specificato, speriamo che con la sua coscienza sia posto indipendentemente dalla giustizia sportiva. Dammi un aggettivo qualificativo per acervi, superficiale… Incosciente! Superficiale e se vuoi scorretto a termini di regolamento perché sicuramente qualcosa, ma io non credo quello… Lo scorretto, no però Paolo scusami, lo scorretto è colui il quale ti dice che sei uno stronzo, scorretto è quello. No vabbè ma non puoi paragonare… Una roba del genere per me non è scorretto, non sei normale, scusami eh, superficiale ma non sei normale. Non posso aggiungere anche un altro aggettivo. Sei stupido eh. Sei stupido. Sì, va bene, va bene. Vai Marianna… Ma non lo paragona a quello là che faceva… ma non lo paragona… non paragona a Cerbi a quello là di colore dell'udinese che faceva i core e megnane eh. Non lo paragona. Ma no, ma no ragazzi, Marianna in conclusione… No, io aggiungo anche furbo perché guarda caso le dichiarazioni cambiano nel momento in cui rischi la convocazione nazionale. E soprattutto proprio le dichiarazioni che possano in qualche modo casualmente… Sicuramente di giochi di furbi… Non lo so, non lo so. Allora ragazzi, voglio leggere le parole di Juan Jesus e le parole di Acerbi Assolto. Quindi se la nostra regia per favore ce le manda, le condividiamo con voi. Sono le parole eccole, il comunicato del Napoli e di Juan Jesus. Non mi sento in alcun modo tutelato da questa decisione che si affanna tra il dover ammettere che è stata raggiunta sicuramente la prova dell'offesa e di sostenere che non vi sarebbe la certezza del suo carattere discriminatorio che, sempre secondo la decisione, solo io e in buona fede avrei percepito. Non capisco davvero in che modo la frase vai via nero se solo un negro, puntini puntini, possa essere certamente offensiva ma non discriminatoria. Non comprendo infatti perché mai agitarsi tanto quella sera se davvero fosse stata una semplice offesa rispetto alla quale lo stesso Acerbi si è sentito in dovere di scusarsi, che era quello che dicevamo un poc'anzi. L'arbitro ha ritenuto di dover informare la VAR, la partita è stata interrotta per oltre un minuto, i suoi compagni di squadra si sono affannati nel volermi parlare. Non riesco a spiegarmi perché mai, solo il giorno dopo e in ritiro con la nazionale Acerbi, abbia iniziato una inversione di rotta sulla versione dei fatti e non abbia invece subito negato, appena finita la partita, quando era in realtà avvenuto. Non mi aspettavo un finale di questo genere che, temo, potrebbe costruire un grave precedente per giustificare a posteriori certi comportamenti, che era quello che poi diceva Marcello. Sì, però Vittoria lui continua a sostenere, dice non capisco come una frase vai via nero, vai via nero, se sono un negro, possa costituire un'offese e non una discriminazione. Ma come non lo capisco? Il giudice ha detto che non ha gli elementi per cambiare se c'era. Lui ha sbagliato, come io do ragionare a Guancelio. E dai ragionare a Guancelio. No, per me, il giudice ha sbagliato. E io no. Ma per carità, leggermente. Tu no, allora sentiamo anche le parole di Acerbi, ragazzi, così abbiamo il quadro completo, sempre parole di ieri, eh, per darvi il lasso temporale corretto. Allora, le leggiamo con voi. Ce l'abbiamo? Sì, dai, ce l'abbiamo. Adesso le abbiamo, adesso le abbiamo. Ma di lui o della moglie? Eh, tra l'altro, sciacquatevi la bocca, dice la moglie. No, non è molto carina, eh. No. Non è molto carina, devo dire. No, affatto. Eccolo, grazie a regia. Detto da una signora. No, affatto. Allora, Acerbi ha solto la sentenza. Il preferimento di alcuna parola da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con le espressioni di offese rivolte, peraltro non platealmente. Il cui contenuto è discriminatorio, però risulta essere stato percepito dal solo calciatore offeso, ossia Juan Jesus, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e final testimonial. Fino anche testimoniale. Sì, ah 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 ah. Non è inglese. All'inglese. Vabbè, comunque ragazzi, questo... Tu dici che il giudice si è inventato un inglesismo. Esatto, vabbè, comunque, questo per dire che sono... Ah, va bene, ok, dai, terminiamole, terminiamole. Ritenuto per tanto di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata di non applicare le sanzioni previste dall'articolo 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi. Quindi questa è la sentenza, ragazzi. E poi sui social, per dare un po' il manforte a quanto mi stava dicendo prima Max, è comparsa una foto della quale la moglie di Acerbi dice appunto sciacquatevi la bocca, eccetera, eccetera. Beh, sicuramente la frase della moglie in questo caso, ma in generale, no, di terzi trovano sempre un po', lasciano sempre un po' il tempo che trovano Max. Questa però è la sentenza, che è quello che dicevamo prima, no? Mancanza di prove, fine. Ma io la moglie la capisco, perché gli hanno augurato la morte a lui, ai figli, eccetera. Cioè, ha avuto il timbro, come le streghe nel Medioevo, era già rogo, come razzista, gli hanno augurato di tutto ed è umano una reazione del genere. Voglio vedere uno di noi se si trova. Scusa, perché secondo te con questa decisione quella gente ha cambiato l'opinione? No, assolutamente no. Lascia stare la gente che ha augurato il rogo e questa roba qua. Questi sono il peggio del peggio. Eh, ma adesso hai sentito di rispondere. Io non auguro niente a nessuno, però io mi faccio un'idea, posso farmi un'idea, farmi un'idea di quello che c'è stato. Mi faccio un'idea, a me non me ne frega niente del giudice sportivo. Anche a me hanno dato una squalifica che non era giusta, me la sono presa. Ma tanto io so nella mia coscienza cosa ho fatto e cosa non ho fatto. Quindi, da questa parte dico, per una situazione di campo, una situazione di campo che ne ho vissute parecchie, è una situazione di campo, ti dico che per me il giocatore dell'Inter ha detto al giocatore del Napoli quello che ha detto, è quello che ha sentito Guagliesu, è quello che penso io. Non mi frega niente del giudice sportivo. Uguale Marcello, mi sembra uguale Mariana. Io no. Faccio concludere Gigi. Io non la penso così, non la penso così assolutamente. Eh esatto. Non la penso così, lo dico da subito. Sì sì, Gigi tu? No, io dico che sicuramente si sono detti qualcosa. Siamo in quattro. Ecco, però come sempre succede, dopo che hai detto, subentrano tante cose, soprattutto i difensori di Acerbi, che avranno detto da Acerbi, qui per uscirne bene bisogna che tu dica un qualcosa di diverso da quello che hai detto. Però non abbiamo la certezza, queste sono tutte impressioni che possiamo avere, no? Perché alla fine proprio manca la certezza, perché se ci fosse un labiale, l'arbitro ha spostato tutto alla VAR, ma la VAR ha guardato per filo, per segni, fotogrammi e non ha riscontrato nulla. Ecco perché ti dico che Acerbi ha potuto uscirne così bene. E in più, come diceva Max, c'erano anche degli interessi per la nazionale, per cui tutto tendeva a far prendere la bilancia verso Acerbi, come alla fine è stato. No, ma scusami un attimo. E poi concludo con te, Marcia. La sentenza, me la rimetti per favore, me la rimettete per favore un secondo la sentenza video, quando lui dice il cui contenuto discriminatorio, però, risulta essere stato percepito da solo calciatore offeso, senza dunque supporto di alcun riscontro probatorio. Mi dite perché cavolo, visto che anche Juan Jesus dice ma sono arrivati tutti i suoi compagni a parlarmi, ma di che cosa sono andati a parlargli? Di com'era la giornata? E perché Juan Jesus non ha detto alla procuratore federale cosa gli hanno detto gli avversari? Ma gliel'avrà anche detto. No, non gliel'ha detto. Perché non gliel'ha chiesto. L'avrà anche detto. Perché tu non sei mai andato davanti alla procuratore federale. Cioè io vedo solo che Di Marco... Caro Paolo, tu non sei mai andato davanti al procuratore federale. Tu non puoi dire niente. Lui se tu dici una cosa, lui ti ha detto io non ti ho chiesto questa cosa. Tu rispondi solo alle cose che io ti domando. Tu non puoi dire niente e non prendono in esame niente. Sì, ho capito. Ma io, ascolta... Devi andarti a presentare davanti a questi coglioni, perché questi sono dei coglioni, ok? E l'istituzione è da cambiare e tu non sai che cosa vuol dire essere sotto la giustizia sportiva. Ti vengono a dire il tesserato mi ha detto questo e questa è la verità. Tu non puoi portare niente a discolpa. Ma se ti ho detto io prima in premessa che sul fatto che la giustizia sportiva sia da riformare ero d'accordissimo con te. Cioè non mi dire ogni volta che c'è, perché se io dico una cosa, sono d'accordo con te e tu ogni volta fai finta di esserti dimenticato. Ragazzi, ci fermiamo qua. Ti ho detto che sono d'accordo, però voglio dire, ogni caso... Ma non è qui l'accordo o non l'accordo. Ma ogni caso fa storia a sé. Sì, ma ho capito, ma ogni caso fa storia a sé, perché probabilmente quando hanno interrogato te... No, però tu dici... No, lui parlavi dell'interrogatorio. Ragazzi, lo abbiamo fermato. Lo so. Perdonatemi. Allora, visto che stavamo parlando di acervi, io vorrei sempre rimanere in tema nerazzurro. Perché? Allora, notizia... E qui poi ripartirò dal buon Paolo Bargigia, che quando si parla di mercato è il nostro esperto. Notizia di giornata che oggi veniva pubblicato su un quotidiano sportivo molto noto è il rinnovo di Mr. Inzaghi, a cui è stato proposto un rinnovo fino al 2026 con opzione per l'anno successivo, quindi 2027. Dici tu tutto. No, beh, no, dico io. È chiaro che l'intenzione dell'Inter è quella, l'aveva dichiarato anche Marotta, e adesso si sono un po' invertite le parti, no? C'è nel senso. Allora, per stare nel concreto. Sì. Simone Inzaghi rinnoverà. Ok. Però è ovvio che adesso un po' il coltello dalla parte del manico c'era lui. Ma si sa già quanto gli hanno offerto, le dinamiche di contratto? No, no, le cifre, beh, secondo me lui tenderà ad arrivare ad essere l'allenatore probabilmente più pagato in Italia sulle cifre di Allegri. Se non consideri Allegri. Sulle cifre di Allegri, 7, 7 più bonus. Comunque lui l'ultimo rinnovo credo avesse 4 e mezzo, 4 più bonus. Ah, quindi quasi a duplicare, eh? No, non a raddoppiare, però comunque su quelle cifre lì. Vabbè, è chiaro che punta ad essere l'allenatore più pagato. Del resto sa presto a vincere lo scudetto, ha fatto una finale di Champions. Lo scorso anno è andato vicino a non essere più l'allenatore in primavera dell'Inter. Quindi secondo me psicologicamente un po' il coltello da parte del manico c'era. Ma io credo che la sua intenzione sia quella di rinnovare, anche se qualche sirena gli è arrivata. Però comunque stanno costruendo un Inter ancora per lui, ci sono i suoi giocatori, giocatori che ha formato lui. Ecco, io non ho segnali di criticità particolari su questa cosa. Poi non so, tipo Massimo che segue anche queste cose, si ha dei riscontri diversi. Però io credo che si andrà in quella direzione, uno più opzione, ecco. Ma che vada concordato un po' la cifra. Oltretutto la garanzia di questa cosa adesso è un po' marotta, perché poi ne parleremo. Perché comunque l'Inter è vicino ad un possibile cambio di proprietà. Quindi vabbè, credo che non intacchi questa cosa, ma magari ne rallenta un pelo. I tempi, come sta lamentando i tempi, il rinnovo di Lautaro, capisci? La questione OCTRI. Allora, Massimo, per quanto concerne il rinnovo di mister Inzaghi, tu sai qualcosa in più da aggiungere a quanto appena illustrato da Paolo Bargigia? No, no, non so niente, ma mi sembra una cosa logica, visto i risultati e visto il lavoro che ha fatto questo allenatore, i miglioramenti che ha fatto. Tra l'altro io penso che lo dico, visto che qualcuno dice che io ce l'ho con Inzaghi e non mi piace. Certo, non è l'allenatore mio preferito, però se devo spendere una buona parola, la spendo in funzione dell'eliminazione che c'è stata in Champions, io credo che l'allenatore in quel caso abbia veramente quasi zero responsabilità, a mio avviso, perché credo che l'interpretazione che hanno dato i calciatori in campo a quella partita, naturalmente parlo della partita di ritorno, esulano da qualsiasi responsabilità l'allenatore. E quindi immagino comunque che, come giustamente ha detto Paolo, l'eventuale cambio di proprietà rallenti un po' tutti quelli che sono i discorsi che riguardano i rinnovi, come giustamente ha detto anche quello di Lautaro. Certo, allora io voglio stuzzicare un po' Marcello su questa questione di Oktri, perché ricordiamo ragazzi c'è una spada di Damocle che pende su Zanghi in particolare, 385 milioni che la società Inter dovrà pagare a maggio affinché Zanghi e Famiglia rimangano proprietari dell'Inter nazionale. Deve pagarle Zanghi, devi pagarle Zanghi. Eh sì. Che è il proprietario dell'Inter. L'Inter insomma. Eh, bravo, siccome tanti ti dicono sempre, ma l'Inter non c'entra niente, sono faccende riguardanti Zanghi. No, Zanghi è il proprietario dell'Inter. Quindi quello che paga gli stipendi a Marotta, Ausilio, Antonello, ai giocatori, che paga i fornitori, che paga tutti e quindi è un problema serio. Tra l'altro ci sono questi 380 milioni da dare a Oktri. Più quelli personali. Più quelli che lui deve dare ancora alla China Bank come crediti di 320, quindi stiamo pagando intorno ai 600 e passa milioni. Quasi 700. Di dollari, tra l'altro. Non lo so, io in una situazione del genere, francamente, io ho posto, c'eri tu la scorsa volta. Sì, sì, eravamo insieme a sabato, ne parlo a mano proprio. Quando io ho dato, ho provocato dicendo, ma l'Inter si può iscrivere al campionato? Però Marcello, due cose se posso. La cosa delle sue pendenze... Sembra che l'Inter non sia aggredibile, come nel caso di riscossione di credito. Io ritorno sempre al fatto, come dicevamo prima, che lui è il presidente dell'Inter, quindi già non hai soldi da pagare il finanziamento per l'Inter per la Oktri, più ancora altri 320 milioni da dare. Infatti, ma quella è una cosa. Sulla società, come ha scritto l'altro giorno, solo 24 ore, cioè praticamente sembra che Oktri non voglia dilazionare ulteriormente il debito, che Zanga non riesca a saldarlo e che quindi Oktri acquisisca la proprietà dell'Inter. No, gli ha messo una condizione. E che, no, aspetta. Gli ha detto, se tu mi porti un compratore, allora ti posso fare ancora un prestito. No, no, però sembra, le ultime cose, sembra che invece il compratore eventuale, con le tempistiche da verificare, lo stia cercando Oktri direttamente. Oktri ce l'avrebbe, quasi già. Parlano negli ambienti della finanza, siccome Oktri è un fondo americano, si parla di investitori americani. E adesso il calcio italiano comunque è appetibile, no, come vedi in questi anni. E l'Inter è appetibile, perché loro dicono ci pensiamo noi, perché Zanga, un po' che chiedeva un miliardo e due, un po' che è in altre faccende affacendate, se loro aspettano ancora che questo trovi qualcuno, buonanotte. Però, secondo me, dal punto di vista tecnico, sulla squadra, non credo che questa cosa impatterà, perché anche il prolungamento di contratto che hanno fatto a novembre a Marotta, fino a 2027, secondo me è una garanzia di continuità con la nuova filosofia. Certo che se poi arrivano dei proprietari strani che vogliono buttare tutto allo sfascio, vabbè, quello è ovvio, però non credo, soprattutto nel primo anno. Stavo questionando su questo. Io stavo dicendo soltanto che, essendo lui in una situazione debitoria abbastanza molto pesante, cioè il proprietario al momento risulta ancora lui. Quello che scrive l'Inter al campionato è lui. Allora io mi chiedo se le regole, tra l'altro ci sarebbe anche una regola della FIGC, che vieterebbe a un proprietario che ha tutti quei debiti, di esercitare il ruolo di capo di una società. Ma non debiti personali, se non c'è un rapporto, se non sono giusti i parametri nel club. Io mi chiedo che cosa pensa Gravina di questa situazione, perché Gravina oggi lui abbraccia a Cerbi, lui fa tutto, dice io credo alla sua giustizia sportiva. Gravina ci farebbe la cortesia se ci spiegasse come mai, scusa Massimo, volevo solo chiudere questo. Prego, prego. Un secondo, poi ti lascio. Che lui ci spiegasse perché da adesso, da oggi, vale l'onere della prova e prima non ne vai valsa. Visto che la riforma non mi pare sia stata mai fatta da lui nel codice di giustizia sportiva e quindi lui può abbracciare tutti quelli che vuole, però di fatto abbraccia uno che soltanto perché per mancanza di insufficienza di prova, cosa che finora la giustizia sportiva non ha mai voluto per accusare qualcuno, è stata tirata fuori. Ci dovrebbe spiegare questo invece, oltre ad abbracciare a Cerbi. Vai Max, devo ancora sentire Gigi e Marianne, ragazzi. No, una cosa al volo, tra l'altro Gravina, che era l'unico che poteva ribaltare la sentenza e che invece ne ha ribaltata una, mi sembra un paio d'anni fa, un anno fa. Sì, di Lukaku. Quella di Lukaku, sempre che riguardava il razzismo. Sì, sì. Ma è vero. Chissà, come mai. Sa perché. Però ragazzi, io vado da Gigi, vai in freddo perché Gigi mi riappiglia te per tornare al nostro focus. Per tornare al calcio. E' bravo, vedi, guarda. Prima diretta, ma già ci intendiamo, eh. Già ci intendiamo. Ma il calcio non si fa senza soldi. Sì, è vero, però si fa sul campo il calcio. Certo. Allora, io vorrei sapere da te che cosa pensi di Inzaghi se effettivamente meriti il rinnovo e soprattutto questo rinnovo a quanto possa chiuderlo, visto che tu hai vissuto la carriera da allenatore, anche perché ricordiamoci l'anno scorso, come faceva anche bene Riferimento a Margigia, proprio a quest'epoca, a marzo, cioè Inzaghi sembrava dover essere messo sulla graticola, Inzaghi out, esonerato, nessun interista più lo voleva. Cioè, io mi ricordo, è il periodo. Sì, c'è da dire che Inzaghi da quando ha preso le redini dell'Inter è migliorato molto. Veramente, quando è iniziato il primo anno, secondo me, ha buttato via un campionato che solo loro potevano buttare via, perché nell'ultima giornata… L'anno dello scudetto del Milan, che ci fu quel surpasso extremis. E lì una responsabilità enorme ce l'hanno i giocatori, perché nell'ultima giornata vai a giocarti il campionato con una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato e tu, tu giocatore, vai là e non riesci a gestirti quella partita lì, no? Dopodiché, lui, l'anno scorso ha vissuto l'annata dove è esploso il Napoli, per cui ha potuto partecipare, però sono arrivati alla finale di Cempio. Che lo ha salvato. Che lo ha salvato e quest'anno devo dire che ha dimostrato di essere veramente un allenatore, perché io ho visto dei giocatori migliorati, perché la funzione di un allenatore è anche quello, soprattutto, di migliorare i giocatori che ha a disposizione. Quindi un po' è la Gasperini, diciamo. Sì, non solo di gestirli come faceva il buon Allegri ai tempi di Pirlo, Buffon, aveva tutti i grandi giocatori, li gestiva bene ed ha vinto. Quest'anno doveva mettere qualcosa di suo e secondo me non è riuscito a farlo. Inzaghi l'ha fatto perché ha migliorato Di Marco, che era il terzo giocatore di fascia e l'ha fatto diventare uno dei protagonisti. ha migliorato moltissimo Barella, perché Barella era un giocatore, un ottimo giocatore ma da oratorio, inteso che andava dove c'era il pallone. Adesso invece guarda il lato tattico nella maniera giusta. Vedi anche il nazionale, infatti. Esatto, e sarà una fortuna. E alla fine il rinnovo è naturale, perché ti vince un campionato. è andato in finale l'anno scorso, ha toppato quest'anno, come diceva Max, nella Champions. Io invece do una piccola responsabilità anche in Zaghi, perché quando mi toglie Mkhitaryan e Di Marco nella stessa fascia, i due che sono sempre stati protagonisti, vai a smembrare un po' la squadra, in effetti. Anche se era cotto, Mkhitaryan, era cotto. Eh, però forse tu non l'hai persa l'andata, è la Champions, ragazzi. Sì, ma io quando sento che uno è cotto, un giocatore importante, in una vetrina importante come la Champions, butta fuori di tutto. Per cui un piccolo... però è giusto che venga riconfermato, non a cifre che ha detto Paolo, perché non è ancora un top player. Un top... Però se li guadagni allegri, devi guadagliare a Inzaghi. Ma Leanna, Giugi, mi dà un punto di riflessione interessante, no? Perché... Se quello è il benchmark. Ok, penso che tutti noi siamo d'accordo sul fatto che Inzaghi sia meritevole di rinnovo, ma secondo te, qualora dovesse arrivare un rinnovo a quelle cifre lì, quindi 7, 7 più bonus, più o meno, mi sembra di aver capito. Vabbè, dico, non sono ancora entrati veramente nel vivo della trattativa, ecco, cioè, però... Ragazzi, io mi affido a Vargigia, eh. No, 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 dico, però le cifre che lui chiederà col suo agente, che poi è Tuglio Tinti, credo che saranno quelle. Cifre esorbitanti, comunque, rischerebbero di fargli montare la testa? Perché Gigi diceva, forse non è ancora maturato, non ha ancora raggiunto quel livello... Un top mister. No, certo, certo. Però vorrei chiedere poi a Gigi, lui, chi considera top mister in Italia, perché questo sono curioso, se non lo è Inzaghi, eh. Poi sentiamo la risposta di Gigi in conclusione. Quella sì, però è una bella domanda, in effetti, da rivolgere a lui. Eh, voglio capire. No, vabbè, certo, sono cifre da capogiro che, però, guardando come diceva Paolo, l'ago della bilancia, li guadagna Allegri perché non potrebbe guadagnarli, per dire Inzaghi, però quello che poi verrà, però quello che poi verrà in futuro è anche il fatto di vedere anche la solidità, in effetti che hanno le spalle, la disponibilità economica, perché poi vuol dire che se tu alzi comunque uno stipendio così importante, vuol dire che magari hai le spalle coperte per fare anche degli acquisti maggiori sul calciomercato, eccetera, eccetera. Che è in contrasto con la situazione della società. Esattamente, è appunto, quindi questo è il discorso. Però per quel che riguarda il lavoro fatto fin qui da Inzaghi, direi che è un ottimo lavoro, un ottimo allenatore per questo livello. A me personalmente l'anno scorso, quando aveva incominciato la prima parte del campionato, non mi era piaciuto, onestamente, perché c'era un abisso tra le prestazioni del campionato e le prestazioni di Champions. Secondo me questo era uno squilibrio abbastanza importante per un allenatore di Serie A. Però devo dire che in realtà quest'anno mi sta sorprendendo e mi piace veramente molto. Sarei veramente curiosa di rivederlo il prossimo anno sulla panchina dell'Inter per vedere un continuo crescendo però, in questo caso anche in chiave Champions. Allora, sentivo Max un po' in disaccordo con il parallelismo alle guinzaghi. Grazie, ma scusate, ma scusate, gli ingaggi, non si possono fare questi paragoni così a secco. Gli ingaggi degli allenatori, dei giocatori. Però Massimo, questa era una battuta che ci si è lanciato io e Paolo prima di iniziare il discorso. No, lo so, sarà pure una battuta. Però è una battuta, secondo me, infelice e ti spiego perché. Perché gli stipendi degli allenatori e dei giocatori vengono fuori nel momento in cui si stipulano i contratti dalla domanda e dall'offerta. All'epoca in cui è stata fatta l'offerta risultata fuori luogo adesso per Allegri, Allegri era richiesto dal Real Madrid ed era la prima scelta del Real Madrid. Scusami, no, 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 lascia stare l'Arabia, io sto parlando di qua tre anni fa. No, l'Arabia era l'anno scorso eventualmente. No, scusa, l'Arabia. L'Arabia non era ai tempi, ovvio. Non c'era ancora l'Arabia. Fatemi concludere, Max, che poi dobbiamo fermarci. Vai, Max, vai, vai, vai. No, sto dicendo che tre anni fa Allegri stava sulla lista ed era il primo della lista di Florentino Perez, che l'aveva scelto come allenatore, ok, il secondo era Pocettino, il terzo era Antonio Conte, eccetera, eccetera, poi è arrivato Ancelotti. Nel momento in cui tu hai un'offerta del genere è logico che una società che ti vuole portare via e vuole fare un'offerta migliore ti fa quel tipo di offerta. Ti faccio un'altra battuta, Massimo. Scusami, finisco, finisco, finisco. E guarda caso, visto che qui si parla adesso, ma io non voglio fare quello che è contro o lo difende, io ho già sempre detto cosa penso di Allegri, ma guarda caso è stato soffiato all'Inter, perché Marotta nel momento in cui va via Antonio Conte si precipita immediatamente da Allegri e chiede la disponibilità di Allegri. Ma scusate, scusate, stiamo parlando di questo discorso, stiamo parlando di adesso, la battuta, seppur infelizio come dice Massimo, la battuta che è nata tra l'altro da Paolo, la battuta era semplicemente, ok, abbiamo un mister inzaghi, lo possiamo paragonare ad Allegri di adesso? No, senz'altro, è ovvio che il contratto è stato fatto tre anni fa. Il discorso è semplicemente quello di dire, stiamo parlando di cifre esorbitanti, che potrebbero essere due quelle di Inzaghi e l'Inter, fammi finire Paolo, il discorso è, va a più Inzaghi, va a più Allegri, è ovvio che non puoi fare un parecone, questo è. Ci fermiamo ragazzi, te l'ho scaduto, vai, 30 secondi. Massimo, non ti faccio un'altra battuta, te ne faccio due. Pensa che Suerte, che fondo schiena ha avuto Florentino a non prendere Allegri e pensa che Suerte ha avuto Marotta a non prendere Allegri. Ma dai, ma dai, ma dai, ma hai visto come si è voluto Allegri nel calcio, dai.